Bentornati, ci siamo lasciati la volta scorsa con un esercizio riguardante l'interfaccia di Blender. Abbiamo visto come è possibile salvare il file di default in modo che tutte le volte che apriremo un nuovo file avremo l'interfaccia da noi personalizzata. Abbiamo anche visto che nel menu File, Default, Load Factory Settings abbiamo la possibilità di ricaricare lo stato originale di Blender. Se avete seguito il mio consiglio e avete fatto degli esperimenti, vi potrebbe capitare che tutte le volte che riaprite Blender avete ancora il file salvato da voi. Quello che dovrete fare è sì richiamare Load Factory Settings, ma subito dopo, una volta richiamato il file di partenza, fare clic su File, Default e risalvare nuovamente lo Startup File. Così facendo, la volta successiva che riprendete Blender avrete nuovamente di serie per default la situazione di partenza. Oggi vedremo insieme per la prima volta le preferenze di Blender. Diamo un'occhiata veloce alle opzioni che ci vengono messe a disposizione per capire quali sono le diverse possibilità che ci vengono messe a disposizione per personalizzare Blender. Per richiamare la finestra delle preferenze, andiamo nel menu Edit, Preferences. Ecco che compare una nuova finestra che, al contrario delle altre che abbiamo visto fino adesso, si sovrappone all'interfaccia di Blender. Abbiamo notato nella scorsa lezione come possiamo spostare una finestra a destra o a sinistra, un alto o in basso, però nessuna finestra si sovrappone a quell'altra. In questo caso invece la finestra delle preferenze può essere spostata liberamente, anche perché poi una volta modificate le opzioni che ci interessano la richiuderemo per continuare a lavorare. Naturalmente se abbiamo un secondo monitor nessuno ci impedisce di utilizzarlo per tenere aperta questa finestra. Vediamo che sulla sinistra abbiamo un elenco di pulsanti che ci consentono di passare da una sezione all'altra delle preferenze. Qui sono davvero tante, per il momento le vedremo in maniera molto veloce, però mano a mano magari che ci addentreremo nello studio di Blender andremo a approfondire singoli argomenti. Partiamo dall'inizio, interface, l'interfaccia, vediamo che sulla destra cambiano le varie opzioni. Le opzioni sono suddivise in sezioni, abbiamo display, editor, translation, text rendering e menu. Facendo clic su questa freccina possiamo aprire o chiudere ogni singola sezione. La cosa interessante di Blender è che noi possiamo anche cliccare e trascinare per andare ad aprire tutte le finestre consecutivamente. Questo lo possiamo ritrovare in altre parti dell'interfaccia. Un'altra cosa che troviamo qui ma anche nell'altra parte dell'interfaccia è la possibilità di riordinare la disposizione delle sezioni. E lo possiamo fare qui sulla destra, vedete questi puntini, ci indicano la possibilità di aggrapparci e quindi di tirare col cursore del mouse. Facciamo una prova, clicchiamo e trasciniamo, vedete la finestra si sposta e ci consente di andare a spostare la posizione della sezione. In un primo momento potreste dire che non ha una grande utilità ma questo ci dimostra ancora una volta che Blender è altamente personalizzabile. Quindi se ci farà comodo avere subito lì in prima fila una determinata opzione, bene potremo dire a Blender che la vogliamo lì. Questo serve anche e soprattutto per poter velocizzare le operazioni ripetitive. Ora voi state imparando ad usare Blender per la prima volta ma con l'andare del tempo diventerete sempre più bravi, sempre più veloci e se un giorno Blender dovesse diventare un vostro strumento di lavoro capirete che la velocità conta moltissimo. Soprattutto quando si fanno lavori molto complessi. Conoscere l'abbreviazione della tastiera e spostare le diverse sezioni di un menu può davvero tornare utile. Dicevamo che abbiamo la sezione display, abbiamo la possibilità di cambiare la risoluzione dell'interfaccia. In questo momento il fattore è pari a 1 quindi è scalata al 100% però abbiamo la possibilità per esempio se lavoriamo con monitor molto grandi o con altre risoluzioni di aumentare la dimensione delle icone. Per esempio se premo 2 vedete è tutto ingrandito perché ho raddoppiato la dimensione di tutti gli elementi grafici dell'interfaccia. Naturalmente posso anche impostare dei valori intermedi o addirittura dei valori minore di 1. Se per esempio scrivo 0.5 diventa tutto piccolissimo con una dubbia utilità. Però ancora una volta vediamo come possiamo davvero personalizzare tutto o quasi della nostra interfaccia. Abbiamo la possibilità di impostare lo spessore delle linee default, sottili, spesse. Abbiamo la possibilità di attivare o meno la splash screen quando accendiamo Blender. Abbiamo la possibilità di attivare delle funzionalità aggiuntive per i programmatori. Questo non lo vedremo in questo corso base però se avete voglia di esplorarlo fatelo. Abbiamo la possibilità di abilitare i tooltips, queste piccole finestrine che si vanno ad aprire quando andiamo a spostare il cursore del mouse su un determinato pulsante. Facciamo un esempio. Adesso io sposto la freccia del mouse sul pulsante interface e viene fuori questo piccolo riquadro che mi informa sul contenuto di quello che sto per andare a cliccare. In più se seleziono anche Python tooltip al riquadro sull'informazione del pulsante mi viene aggiunto anche il riferimento alla funzione in Python che viene richiamata facendo quella determinata azione. Con questa opzione se siete dei programmatori scoprirete molto velocemente come richiamare praticamente qualsiasi tipo di comando. È molto interessante. Andiamo avanti. Adesso non vedremo tutto quanto. Diamo una carrellata veloce. Qui vediamo gli editor temporanei vengono creati in una nuova finestra. Per esempio quando noi lanciamo un rendering così come si apre la finestra delle preferenze di Blender anche nel caso del render viene aperta una nuova finestra. Questa è un'opzione che si può cambiare e così anche per il file browser. Quando noi andiamo a salvare un file per esempio l'abbiamo visto nella lezione scorsa si apre una finestra a parte che si sovrappone momentaneamente all'interfaccia di Blender. Status bar è questa barra inferiore nella quale vediamo per default la versione di Blender ma possiamo aggiungere anche delle informazioni aggiuntive. Ad esempio le statistiche sulla scena abilitandole vengono fuori tutte queste informazioni aggiuntive, la durata della nostra animazione e l'utilizzo della memoria da parte del sistema. Nelle future lezioni potrà capitare di utilizzare queste statistiche sul numero di vertici, facce, triangoli eccetera. E quindi se vorrete attivarle anche voi le troverete qui nella sezione interfaccia status bar. Abbiamo poi la sezione translation. In questa sezione possiamo andare a cambiare la lingua dell'interfaccia. Blender è tradotto in tantissime lingue tra cui anche l'italiano. Tuttavia le lezioni di questo corso saranno sempre fatte con l'interfaccia inglese. Passiamo adesso a vedere la sezione dei temi. Qui possiamo decidere il colore di ogni singolo elemento dell'interfaccia di Blender. C'è davvero da perdersi. Se vi va di avventurarvi sapete comunque che non fate danni. Sapete come ripristinare tutto. L'abbiamo visto già nelle lezioni precedenti. E' comunque molto interessante. Vedete per ogni singolo editor abbiamo tutte le varie sezioni, tutte le varie porzioni di interfaccia. E per ognuna di queste abbiamo il relativo colore. C'è davvero da perderci delle ore se si vuole personalizzare tutto. Una cosa molto carina è la possibilità di salvare o utilizzare dei preset. In questo momento io sto utilizzando Blender Dark, però abbiamo la possibilità di utilizzare Blender Light, per esempio, oppure Deep Grey. Se vedrete su YouTube dei tutorial con dei colori diversi, probabilmente chi li ha registrati ha utilizzato un tema differente da quello di default, che è appunto Blender Dark. Personalmente utilizzerò sempre questo, però nessuno vi vieta di utilizzare quello che preferite. Se venite da altri software, per esempio Maya, avete la possibilità di utilizzare questa colorazione che vi dovrebbe far sentire un pochino più a casa. Andiamo avanti, c'è Viewport. Anche qui abbiamo diverse impostazioni. Provate per esempio ad attivare o disattivare alcune di queste opzioni. Object Info, vedete si attiva e si disattiva questa scritta. View Name, stessa cosa. Quindi possiamo anche decidere di non far vedere nulla. Fate naturalmente qualche esperimento. Passiamo invece adesso a vedere una sezione molto importante, che è quella degli add-on. Blender è un software vastissimo, forse ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto. Ma non finisce qui. Già è un intero mondo da scoprire. Però sappiate che esiste la possibilità di aggiungere nuovi elementi a Blender, cioè dei programmi, degli add-on, che aggiungono funzionalità a Blender. Per default ce ne sono installati già tantissimi, ma abbiamo la possibilità di installarne ulteriori scaricati da internet realizzati da diversi programmatori. Qui vediamo tutti gli add-on installati e quelli che hanno la spunta sono anche attivati. Per esempio, questo add-on serve per poter importare ed esportare il formato FBX. Più avanti, nel corso delle lezioni, se avremo bisogno di un determinato add-on, sarà qui che dovremo venire ad attivarlo o eventualmente a installarlo. Nella sezione Input abbiamo la possibilità di emulare il tastierino numerico della tastiera e emulare anche il mouse a tre pulsanti. Questo nei casi in cui non le avete a disposizione. Tuttavia, vi consiglio per lavorare bene in Blender di dotarvi di una tastiera estesa, quindi con anche il tastierino numerico, e di un mouse a tre pulsanti. Quindi tasto destro, tasto sinistro e la rotellina che è utilizzata come terzo tasto. Comunque, se non le avete a disposizione, sappiate che qui in questa sezione potete attivarne l'emulazione. Vedete, abbiamo la possibilità di impostare anche alcuni dettagli sull'uso del tablet, del touchpad e così via. Un'altra sezione molto importante è l'elenco delle abbreviazioni da tastiera. In Blender abbiamo tutti i menu che sono raggiungibili con i vari pulsanti, le voci del menu a tendina. All'interno degli editor troviamo tutte le varie opzioni. Tuttavia, sappiate che per lavorare bene, per lavorare velocemente, è importantissimo imparare le abbreviazioni da tastiera. Questo vi permetterà non solo di lavorare più velocemente, ma non avrete neanche la necessità di ricordarvi dove si trova quel determinato comando, in quale menu, in quale sottomenu. Avere l'abbreviazione della tastiera in testa significa richiamare immediatamente quello che vi serve. Quindi, durante le lezioni, vi ripeterò queste abbreviazioni in continuazione perché sarà davvero utile impararle. Qui, in questa sezione, le potete personalizzare, anche se sinceramente ve lo sconsiglio in questa fase. Finché state seguendo il corso base, manterrei le abbrevizioni di default. Guardate, sono davvero tantissime. E una cosa molto importante è ricordarsi che, siccome nell'interfaccia di Blender abbiamo più finestre che contengono diversi editor, ogni editor avrà le sue abbrevizioni da tastiera. Quindi, se un'abbreviazione da tastiera magari richiamerà un determinato comando all'interno della viewport 3D, non è detto che lo stesso comando verrà richiamato, per esempio, nell'outliner. Quindi, a seconda di dove si troverà il cursore del mouse, lì Blender saprà qual è l'abbreviazione da tastiera che deve utilizzare per richiamare un determinato comando. Facciamo un esempio. Tengo il mouse all'interno della viewport 3D. Se premo il tasto G, richiamo il comando grab per spostare il cubo. Comunque lo vedremo meglio più avanti. Se mi sposto all'interno della finestra outliner e premo il tasto G, questo non succede, perché l'abbreviazione G non sortisce alcun effetto, non è prevista all'interno dell'outliner. Quindi, ricordatevi sempre di controllare dove si trova il cursore del mouse. Torniamo alle nostre preferenze. Andiamo a vedere il sistema. Qui abbiamo la possibilità di impostare anche la scheda video. Io adesso in questo momento utilizzo un computer Apple col processore Intel che utilizza la tecnologia Metal. Selezionando questa opzione vediamo che possiamo scegliere quali schede video utilizzare. Blender mi suggerisce di usare la AMD Radeon Pro che è inclusa nel mio portatile. Potrei attivare anche il processore e fare lavorare contemporaneamente sia la scheda video che la CPU, in questo caso nei 9. Non è detto che attivare tutte le opzioni contemporaneamente possa rendere il nostro computer più veloce, più performante nel rendering finale. Fate eventualmente delle prove. Ultima sezione che vediamo oggi, molto importante anche questa, è quella che ci consente di stabilire quali sono i percorsi dei file. Ad esempio dove si trovano i font, dove si trovano le texture, i file sonori, i file temporanei e così via. Quindi qui potrete andare a indicare a Blender dove andare a pescare le diverse risorse. Una volta che abbiamo modificato una o più preferenze, avremo la possibilità di salvarle con l'apposito pulsante che abbiamo qui in basso a sinistra, anche se in realtà per default Blender le salva sempre e comunque. Lo vediamo da questo menu che abbiamo qui sulla sinistra, questo pulsante con queste tre linette. Se lo clicchiamo vedete che compare un menu e c'è come prima opzione Autosave, che per default è attivata. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che andiamo a modificare un'opzione all'interno delle preferenze di Blender, questa verrà salvata automaticamente. Abbiamo comunque la possibilità di richiamare le preferenze di default, di fabbrica, oppure salvarle manualmente se l'opzione Autosave è disattivata. Bene, per questa lezione è tutto. Vi ricordo se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al canale, se avete piacere potete anche abbonarvi e nella descrizione del video potete trovare il link per le dispense che contribuiranno alla pubblicazione di queste e delle future lezioni. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.